Ciao ragazzi, come state? Oggi 19 leggeremo un bellissimo libro, Natale allo stravaganza hotel. Natale allo stravaganza hotel. Lontano dalla confusione della città, Orso era pronto a trascorrere un Natale tranquillo. Il fuoco scoppiettava allegramente, mentre le candele diffondevano una luce dorata. Tuttavia, non appena Orso aprì il suo libro preferito, sentì un forte bip bip, alzò lo sguardo, chi può essere? Ciao, esclamò allegra una piccola rana, sono qui per la mia super festa di Natale. Voglio vedere le luci, l'albero, la renna volante, che il Natale abbia inizio. Rana sventolò un volantino sotto al naso di Orso. Natale allo stravaganza hotel, lesse Orso. Penso che tu sia nel posto sbagliato. No, no, rana indicò la mappa, questo è il posto giusto, vedi? Orso guardò meglio. Oh, la tua mappa è capovolta, l'hotel che cerchi è dall'altra parte del mondo. Ma non può essere, si disperò rana. Avevo pensato a tutto, avevo persino cucito un berretto di lana. Guarda, ora non arriverò mai in albergo in tempo per la super festa di Natale. Orso ci pensò per bene. Vuoi stare con me? Chiese gentilmente. Ho intenzione di passare un bellissimo Natale. Davvero? Rana si asciugò le lacrime. Urrà! Si accomodò sulla poltrona davanti al caminetto, sorseggiò un'enorme tazza di cioccolato e poi si appisolò. Mentre rana dormiva, Orso lesse il volantino. Un albero che canta? Si chiese. Un giro sulla slitta supersonica? Rana non le troverà di certo qui. Ma poi guardò quella piccola creatura che russava, sognando un magico Natale. Povero ragazzo, sussurrò. Vediamo cosa possiamo fare. Orso, Orso, lo chiamò rana in mattina seguente. Per favore, possiamo iniziare la nostra super festa natalizia? Certamente, disse Orso sbadigliando. Così rana controllò il volantino. Oh, quindi hai un bar che serve colazioni polari e dove puoi mangiare quanto vuoi? Non esattamente, rispose Orso. Ma che ne dici di pasticcini glassati? Davvero? Con gli zuccherini? Fammi vedere, esclamò rana. Orso gli passò un grembiule e insieme iniziarono a cucinare. E anche se non era proprio come sul volantino, rana si divertì un sacco. Una volta divorata la colazione, rana si guardò intorno. Orso, dov'è il tuo albero di Natale? Chiese. Nel mio volantino ce n'è uno enorme che canta. Sorridendo, Orso condusse rana in giardino. Questo può andare? Chiese. Rana guardò su, su e ancora più su. Wow! Il bellissimo albero di Orso scintillava maestoso. Guarda, esclamò rana quando due petti rossi si posarono sui rami cinguettando. Ci sono anche delle decorazioni parlanti. E la neve! Hai una macchina per la neve? No, no, ridacchiò Orso. Questa è neve vera. Rana ben presto scoprì di amare la neve e le lunghe passeggiate nel bosco e i picnic. Poi rana notò delle impronte sulla neve. Seguiamole, disse Orso sorridendo. E così, in una radura, trovarono tre renne vere. Ora possiamo fare un giro sulla slitta, esclamò rana. Ma Orso scosse la testa. Mi spiace, ma queste non sono le renne di Babbo Natale, disse, e purtroppo non possiede una slitta. Tuttavia, sapeva come porre rimedio. Battaglia di palle di neve! Urrà! Grida Orana. E pensare che non c'era neanche sul volantino. Giocarono finché il cielo non cominciò a oscurarsi. E ora al pezzo forte, esclamò rana. È tempo di accendere le luci di Natale. Tirò fuori il suo volantino e mostrò a Orso una foto con file e file di luci nelampeggianti. Oh, sospirò Orso. Le sue luci di Natale non erano certo come quelle. Orso corse quindi a casa e accese tutte le candele. Vanno bene queste luci? Chiese Titubante. Rana sbatté le palpebre. Non erano proprio la super festa che si aspettava, ma Orso era stato così gentile. Perché sì, farfuglia con un grande sorriso? Sono così natalizie. Il silenzio, i due fissarono le fiammelle dorate. Poi all'improvviso Orso alzò gli occhi. Seguimi rana, disse afferrando sciarpe berretti. Che ne dici di queste luci? Orso indicò il cielo. Oh Orso, sospirò Rana. Erano perfette. Di nuovo al caldo, la luce della luna d'inverno filtrava attraverso le finestre. Che giornata magica, disse rana. E non era ancora finita. Shhh, sussurrò Orso. Cos'è questo tintinio? Arriva dal tetto. Rana controllò il volantino. Non c'era neanche un cenno sui tintinii. Deve essere Babbo Natale, esclamò Orso. Allora dobbiamo sembrare addormentati. Svelto. Si infilarono sotto le coperte e chiusero forte gli occhi. Pssh, Orso, stai dormendo? Perché io sì, disse rana. Ma Orso stava già russando. La mattina di Natale, vicino al fuoco, c'era un regalo perfettamente impacchettato. Orso, strillo rana. Guarda, è da parte del Babbo Natale. È passato. Afferrarono ognuno un lato del nastro e tirarono. Una slitta, esclamò Orso. Vedi rana, è proprio quello che ci serve. Per una bella discesa. Supersonica, urlò rana. Posso tornare qui anche l'anno prossimo? Il Natale nel tuo hotel è il migliore del mondo. Allora, vi è piaciuto? Noi ci vediamo domani. Ciao!